L'inizio di questa sorta di pre-playoff può essere anche l'idea di dare un segno positivo anche per la prossima annata, per rimettersi in gioco, per aspirare a qualcosa che può essere un po' di rivincita anche rispetto a tutta la sfortuna che ha portato a questa annata così difficile. Forza ragazzi, siamo tutti con voi, con la speranza di tornare soprattutto al palazzetto prima possibile e tifare dal vero, dal vivo e supportare i nostri ragazzi.